Siamo alla fine del paese di Poggio Bustone, vicino al Santonario. Vediamo Abruzzo Trekking in 1962, lo sapevo, santuario di San Giacomo. Ecco qua il gruppo compatto sale. C'è anche Abruzzo Trekking in 1962, sta terminando le operazioni di fotografia dei cartelli e adesso sono qui. Questa è la cascatella a Battisti. Cascata mi immaginavo tutto. Cima d'arri. Bellissimo. Il sentiero bellissimo. Guarda che spettacolo qua. Ecco no, ce sto pure io. No, perché tante volte voi dicono ma tu sti firmati, l'hai rubati a qualcuno, ma tu non lo stai. Vieni, sto facendo. Guardate un po', prima neve inverno 2022-2023. Fonte della Pedrinale. Fonte della Pedrinale. Sono stato di più. E' un po', prima non lo stai. Il nostro valore. Un po' di più. Ma non lo è che ti fa. Sì. Neve, 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 neve. Monti. Monti, versate. Monti, versate, ansi. Monti, versate. 159 metri, andiamo al terminifero di Cefurio, il lago di Pienelugo. Siamo sul sentiero di ritorno. Mimosa saluta, da dietro vediamo il terminillo imbiancato. Bellissima, giornata bellissima. Andate un po' gli asinelli. Vedete se c'erano qui i bodi mie o... Buongiorno. Buongiorno. Andiamo dentro la cappella e probabilmente ci sarà la crocca. Andiamo a vedere la corticina. Ecco, questa è la grotta. Adesso esco, è così. La parte riesce a illuminare... Ah, la parte... Ah, la parte... Grazie a tutti.